ciao ciao pronto per la scuola ti ho fatto i biscotti mh anche io voglio andare a scuola che emozione e questo è delizioso sarà bellissimo andare a scuola vedrai! Milo cosa c'è? Mi sembri questo! No mamma se mi sono preoccupato! Mi piacerà la nuova scuola! La nuova scuola? Sì! La voglia bellissima! Certo che lo sarà proprio come quelle viste in tv Riccardi! Ce n'era una giallina te la ricordi? O anche quella con quel bel prato! Mi sembrava bella e accogliente! E anche quella con le scale all'ingresso non era male! Che ne dici? Sì bella papà! Ma ci vorrei anche dei laboratori per imparare e divertirmi! Ah! Come quello del giornale! Con delle belle stanze per fare laboratorio di arte! O magari con tanti computer per informatica! Che ne dici? Sì dai! Ma la cosa più importante è un'altra! Un'altra? Un'altra cosa? Sentiamo! Sentiamo di che cosa si tratta Milo! Voglio tanti compagni simpatici! Maestro e super! Certo! Che ti aiutino ad imparare e crescere! Davvero? Certo! E io conosco la scuola perfetta per te! Cosa aspettiamo? Andiamoci subito! Eccola Milo la nuova scuola che ti dà il benvenuto! Ti piace? Wow papà! È fantastica! È ampia, spaziosa, colorata, fantastica! Evviva! Mi piace tantissimo! E qui si può correre direi! Eh no, forse no! Però guarda che spazi ampi e nuovi in questa super scuola! Questa per esempio è la mensa! Chissà che cose deliziose mangerai! Infatti! Per far crescere la mente e il corpo! Eh già! E guarda che aule nuove! Questa per esempio è l'aula speciale dove fare teatro o ottimità creative! E a proposito di creatività c'è il laboratorio di arte per dipingere e usare tanti materiali! C'è anche il laboratorio di informatica con tanti nuovi computer per tutti gli studenti! Uh! E quella cos'è papà? Questa è una LIM! Nella nuova scuola tutte le classi ne hanno una! E hanno tanti strumenti per una didattica innovativa! E guarda che bambini attenti! Dai papà, parlami di loro! Ah beh, loro sono fantastici! Crescerete insieme e imparerete a conoscervi e rispettarvi! Vedrai, i tuoi amici sono davvero super! E a proposito, i nuovi compagni della tua scuola ti hanno preparato un video con tutte le cose interessanti che fanno! Sei pronto a vederlo? Sì! Vai papà! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti